Con Skin, me lo preparo prima, me lo preparo prima, cioè il criceto, già sta con l'occhialino pronto per leggere. Allora, Con Skin, il nuovo singolo che è andato benissimo e quindi ci fa piacere per il... Ma a casa così lo chiamano? Rainbow Man? Un po' più lungo, no? Va bene, comunque, facciamo i complimenti a Francesca che ci ha risposto in maniera esatta al nostro gioco cinema ma praticamente la risposta era Stefania Sandrelli. Noi facciamo i complimenti a Stefania che è bravissima, bellissima e soprattutto poi da punto di vista mio cinematografico io ho un film, non vi dico quale mio preferito, però il mio film ce l'ho di Stefania Sandrelli. Allora, puoi venire quando vuoi a ritirare il tuo biglietto. Noi continuiamo invece la nostra chiacchierata con i Tiempo Antico, con Giovanni, che subito te la buttolina, cosa molto free, molto leggera. Allora, Giovanni, quanto è difficile fare musica, ovviamente in Campania, in Italia, in Europa, quanto è difficile appunto fare musica e vivere di musica? Ah, leggera. È una cosa leggera. È una montagna questa. Sì, così ti fai anche... Una bella domanda tosta. Ti ho fatto anche la premessa. È una bella domanda tosta. Diciamo che è molto difficile, però bisogna molto perseverare e soprattutto crederci. Noi andremo sempre avanti, al di là del sistema, eccetera, eccetera. Quindi è legata, è difficile suonare e soprattutto è difficile viverci. Però la musica ti fa vivere anche di altre cose. E poi, andando avanti, si vedrà. Bisogna crederci. Questa è una cosa importante. Quindi... Passione, passione, passione. È un monito per tutti gli artisti che ci ascoltano, e tutti i ragazzi che amano fare musica. Allora, prima abbiamo ascoltato il tuo timbro, no? Adesso gustiamo un'altra piccola pillola, così facciamo anche incuriosire quei radioascoltatori che proprio oggi, in questo momento, ti stanno ascoltando e quindi incuriosirli ancora di più. Bene, con molto piacere. Credo sia la piccola pillola. Ieri piccerilla, piccerilla, la covertella, la gore bella. Un'aprella, senza ancora, ma salvai al suo ronore. Mamma mia che fortuna M'aprazzai e marisetta Stai urnato che dà spetta Si da maschera escoberta E allora salio, salio, salio Da compagno Sai urnato che dà spetta E allora salio, salio, salio Che dà spetta Sai urnato che dà spetta Sbattiamo Bravissimo, bravissimo Si è creata proprio l'atmosfera giusta Allora complimenti Stanno arrivando anche qua dai nostri numeri Whatsapp Adesso noi ci fermiamo per la seconda ora Entriamo nell'extra Quindi restate con noi Arrivano le news